Non sono mancati momenti di tensione con le forze dell'ordine a Roma per la protesta di parte del mondo del commercio e della piccola impresa, disordini durante i quali alcuni poliziotti sono rimasti lievemente feriti dal lancio di bottigliette e uno di questi è stato medicato sul posto. A manifestare sono stati in particolare operatori del fitness e ristoratori, anche veneti, tra i promotori della giornata, Yuri, titolare a Maser di una palestra. La piazza era piena, eravamo di 5.000 persone e abbiamo riempito la piazza, anche tanti dal Veneto e da Treviso. Yuri che ripercorre i fotogrammi della giornata da una piazza che nel tardo pomeriggio è ancora gremita. Purtroppo noi eravamo al palco e da qualche parte qualcuno un po' più caldo è partito, non abbiamo capito bene da chi, però purtroppo, come è giusto che sia su queste cose qua, purtroppo capitano anche queste. Due le richieste poi formulate da una delegazione ricevuta a Montecitorio sostegni reali e riapertura immediata. Noi diciamo sempre di no alla violenza, anche se purtroppo è difficile rimanere calmi in questa situazione qua, perché la gente sta morendo di fame e non ce la fa più.